ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vi faccio vedere come vado a preparare le verdure quindi un nuovo meal prep iniziamo dai fagiolini li pulisco in genere metto sotto i bambini li faccio pulire a loro ma in questo caso loro erano a scuola e quindi li ho puliti io e 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 adesso invece vado a preparare le patate e i peperoni e 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 ho aggiunto qui solamente un pochettino di cipolla in granuli e sale e basta e 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